ok uomo delle polizie a san daniele 2 la vendemmia invece no ma io cioè do un contributo no è un grande contributo adesso voglio far vedere ai telespettatori ai telespettatori che la sala è un pochettino più pulita altro che prima se non ci fossi te ecco ecco beh si è aperta no non è che cade per te ok alla prossima puntata ecco